Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Chi viene dal mio video precedentemente pubblicato sa che questo è il sequel, quindi la parte 2 dei miei prodotti, perché in questo caso c'è un prodotto e quattro profumi, super promossi di questi pochissimi giorni del 2024 e ho già fatto questi acquisti, quindi se vi interessa vedere quelli che ho preso e ovviamente mi sono preso un palo in faccia e non mi sono piaciuti, andate nel video precedente e se no questi sono quelli che hanno dato un senso agli acquisti che ho fatto. Partiamo con l'unico prodotto che ho acquistato e che non è un profumo ed è una candela di Jo Malone. Le ho sempre volute queste candele, sono fantasticamente iconiche, non le ho mai acquistate perché io uso le candele, sono in alcuni periodi e in più mi sembra di sprecare i soldi quando compro le candele, perché poi effettivamente svaniscono e poi tu non le usi più, anche perché poi se le accendi continuamente finiscono molto velocemente. Ma ho voluto acquistarla comunque e ho preso la English Peer in Fresia, quella più iconica di tutte, quella che più sentivo negli ambienti di Jo Malone quando c'erano gli eventi piuttosto che, ed è fenomenale, a parte il packaging che è bellissimo, me la sono voluta regalare. Ovviamente le conosco molto bene perché anche noi in negozio le abbiamo e sono estremamente raffinate nell'ambiente. Quando voi vedete questa, io ho tenuto ancora l'etichetta ma bisognerebbe poi rimuoverla e questo viene via, cioè quando voi la vedete negli ambienti sapete che quella è una candela di Jo Malone e che quindi ha la cera fantasticamente naturale e con questo pin in cotone e hanno quest'aroma fantastico. Ci sono anche quelle grosse così, ho visto che sono favolose, sono proprio delle decorazioni, un pezzo di arredamento della casa, quindi me la sono voluta regalare, super promossa. Ero da Bottega Verde qualche giorno fa e a parte due prodotti che non sono andati bene, ho acquistato un profumo di una linea che era scontata e che trovate penso scontata, non so fino a quando ma comunque scontata, ed è la linea Viaggio in Toscana Boccioli del Rosetto. Questo profumo ha cambiato nome, prima si chiamava forse Petali di Rosa, non mi ricordo più. Io come sapete, come ho già spiegato, con i profumi di Bottega Verde non mi trovo mai bene. Questo forse è stato il primo profumo con cui non ho avuto niente da dire e che trovo carino da mettere. Ovviamente lo ricomprerei forse al prezzo che l'ho trovato, era 9 euro scontato, da 26 mi sembra. Lui è veramente un'infusione di Petali di Rosa e quello che mi è piaciuto di più di questo profumo, nonostante sia abbastanza, tra virgolette, prendete le mie parole con un po' così. Si sente molto l'alcol inizialmente, ma poi ha questa sensazione di avere quest'acqua di rose veramente delicata. Assomiglia così vagamente alla linea di Miss Dior, il Blooming Bouquet. Il prossimo profumo super, ma super, ma super, super promosso, forse ha solo una pecca questo profumo, è del marchio Liu Jo. Liu Jo è un marchio ovviamente, è un brand totalmente commerciale, di design totale, anche perché si occupa di moda e di accessori, quindi non è un marchio che spicca per la sua originalità nel mondo dei profumi. Ero da Acqua e Sapone ed era nel reparto degli sconti, anche questo, sono tutti i prodotti che ho preso in sconto, sono sincera. Gold, ho pagato veramente poco, mi sembra di averlo pagato 18-19 euro. E questo è il suo flacone esterno, ovviamente pieno di dittate perché pulito mai che venga. No, è così, è già stato venduto così, probabilmente era già usato, no, scherzo. Allora, Liu Jo Gold è un profumo che non ha tutta quell'originalità, però ha un connubio che a me piace molto, l'oud e la rosa. In più, ovviamente non l'ho sentito perché ovviamente erano gli ultimi due flaconi, non avevano il tester, ha questa nota di pera, succosissima in apertura, dolcissima, la pralina di cioccolato, la vaniglia e il cuoio. È un profumone assolutamente orientaleggiante, ma in un mood di design. Cioè, io ho un profumo di Memo Paris che si chiama Luxorude, ve ne ho già parlato, e mi fa impazzire. Ovviamente ha un prezzo molto più alto, lo uso proprio nelle occasioni speciali. Invece questo è un... è come veramente... Gold, secondo me, è il nome perfetto. Sa di pepita d'oro, sa di quest'oud caramellato con la pralina e la pera, e questa ventata fresca di rosa di Damasco. Tra l'altro, appena l'ho messo, poi sono andata a prendere una vaschetta di gelato per festeggiare forse il 2 gennaio, non mi ricordo più, o forse perché aveva un voglio di gelato e basta, e sono entrata e c'erano due persone all'interno con la ragazza che serviva il gelato e sono entrata io e hanno subito detto, ma che buon profumo, posso chiederti qual è? E la ragazza che serviva il gelato mi fa, anche io volevo chiedertelo, ma non usavo. Quindi è stato subito battezzato con un complimento a questo profumo e vi dico, l'unica pecca che ha veramente è che io poi dopo un'oretta non me lo sento più così forte. Altro acquisto che ho fatto, e sono risultata molto contenta questo acquisto, e non me lo aspettavo, sapete che a dicembre, gennaio e tendenzialmente anche un po' febbraio, anche se poi mi riprendo con i fruttati, ho sempre voglia di dolcezza e soprattutto di vaniglia. E allora sono andata in questa erboristeria, dovevo prendere del tè, e non per me, e quindi buon, entro, e sapevo che c'erano i profumi di olfattiva. Allora ho detto, beh, prendo il tè e poi vado a vedere semplicemente senza comprare niente, però non ce l'ho fatto ovviamente. Allora ho preso sempre di olfattiva, che è un marchio italiano, 100% naturale, trovate veramente tante fragranze di questo brand, a me piace molto. L'unica cosa ovviamente è che la persistenza, essendo comunque materie prime, organiche, molto naturali, è abbastanza bassa, ma non in tutti comunque. E ho preso la vaniglia, cioè guardate che scura che è questa vaniglia. Sono rimasta contenta perché è un liquore, cioè invece di essere la classica vaniglia dolcissima, è un'estrazione in assoluta, ed è come se voi aveste un liquore, un liquore densissimo, quasi una glassa di vaniglia, ma amara. È una di quelle vaniglie che può essere tranquillamente messa da sola, e sa proprio di vanillina, ma non la vanillina che usiamo per fare i dolci, sono proprio baccelli di vaniglia pura, ed è veramente una bomba. Questo io lo uso da solo, mi piace metterlo anche sotto gli altri profumi, perché riscalda totalmente il profumo, ma non lo altera il profumo che mettete dopo, anzi lì dà molto più corpo dolce. Ma l'acquisto che ho fatto più azzeccato di erbolario, la vaniglia. Anche qua abbiamo una storia abbastanza così così, nel senso che sono andata in questa altra erbolisteria che aveva questo profumo, ma io non gli avevo dato mai un centesimo, perché forse la mia mamma usava questo profumo vaniglia con questa proprio, se riuscite a vederla, con questo flacone qua proprio, e utilizzava anche il mughetto storico, tra l'altro usava anche il talco, il mughetto. Ma io non gli ho mai dato un centesimo questa vaniglia, perché non l'ho mai sentita stupidamente. Allora sono entrata lì e le ho chiesto un profumo alla vaniglia, lei mi ha fatto sentire alcuni profumi, e poi alla fine mi fa sentire, ma se no, guarda Sara, c'è questa vaniglia qua che è molto semplice. La vaniglia di Tahiti, il fiore della mandorla amara, e il muschio bianco. Questi sono gli ingredienti fondamentali per creare uno dei profumi più belli che ho, davvero, vi giuro, alla vaniglia. Come sapete non ho tanti profumi alla vaniglia nella mia collezione, ma quando li ho non devono essere quelle vaniglie classiche, devono avere quella marcia in più. Lui è, immaginatevi, la vaniglia più pura che possiate avere, con il muschio bianco più pulito. È come avere l'ammorbidente di vaniglia. Cioè questo è un profumo, peccato che lo vendano solo così piccolo, perché ne farei fuori vagonate. Ha una bellissima persistenza sulla mia pelle, ed è, come vi dicevo, un profumo di pulito dolce, che è difficile da trovare in realtà. Quindi, se amate, che ne so, il coccolino, abbinate quella nota lì alla vaniglia. Ragazzi, ragazze, anche per oggi il video è terminato, e questi erano i miei acquisti, di cui sono contentissima del 2024. Quindi fatemi sapere qua sotto, nei commenti, cosa ne pensate voi di questi acquisti. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, ed iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti o iscritte. Noi ci vediamo al prossimo video, e un bacio. Let's talk about!